In realtà questo intervento è stato voluto, organizzato, pattuito con Paolo Grimoldi che ringrazio ovviamente per la fiducia che mi ha accordato in questi mesi chiedendo scusa a lui e a tutti quanti voi se forse non sono riuscito ad essere presente sul pezzo da Vice Commissario ma il motivo del mio intervento è proprio per portarvi a conoscenza che forse c'è anche qualcos'altro che si può fare per mandare messaggi politici e sono determinati atti amministrativi. Vorrei focalizzare sul fatto che in Regione Lombardia il 5 di agosto abbiamo approvato una legge che è passata forse troppo in sottordine che è la riforma del sistema sanitario regionale, del sistema Lombardo ma che è uno strumento che ci sta dando una grossa mano a scardinare il sistema. Questa legge è la prima legge di federalismo vero applicato, approvata in Italia. Semplicemente, e questo ve lo do come chiave di lettura per riuscire magari attraverso questo splendido pubblico ad andarlo a diffondere meglio sul territorio, è la forma applicata di federalismo perché noi spostiamo su otto territori omogenei quella che è la competenza centrale della Regione. Devolviamo le competenze dal centro alla periferia. Nessuno lo aveva mai fatto, Regione Lombardia lo ha fatto e lo ha fatto andando nettamente contro quella che è la normativa nazionale ma con la forza di Regione Lombardia il Ministero, il Consiglio dei Ministri, che certamente non sono amici nostri, ha dovuto prendere atto e metterci per iscritto con una comunicazione arrivata al Presidente Maroni dopo una lunga trattativa con il Ministero che la legge regionale Lombarda è totalmente disallineata rispetto alla normativa nazionale per cui lo Stato avrebbe dovuto impugnarla e cancellarcela. In realtà, nero su bianco, ci hanno riconosciuto la particolarità, l'innovazione, la capacità di Regione Lombardia negli ultimi vent'anni di erogare servizi mantenendo a posto i conti, unica Regione in Italia in pareggio di bilancio per quanto riguarda la sanità e viste queste caratteristiche il Governo invece di impugnarci la legge ci ha detto che pur essendo non a norma di andare avanti, di farla e di attuarla e anzi ci chiede una relazione sperimentale su questa legge a cinque anni con un passaggio intermedio di tre perché se saranno raggiunti tutti gli obiettivi che sono descritti in quella legge il Governo è intenzionato ad esportare il modello Lombardo anche alle altre regioni. Ragazzi, dal particolare c'è il messaggio politico generale che vogliamo sottolineare perché di fatto il Governo ci ha riconosciuto una autonomia gestionale in un settore che vale l'82% del bilancio regionale. È un cuneo fenomenale che abbiamo messo all'interno del sistema. Domani mattina, quando incontrate Renziani e compagnia, magari spiegateglielo. Viva la Lega Lombarda, viva Paolo Grimoldi e viva Matteo Salvini! Non, upside dólares! Vivo a us shop!